Ciao ragazzi, in questo video vi vorrei parlare dell'espressione italiana, dell'espressione idiomatica italiana essere alle prime armi. Che cosa significa essere alle prime armi? È un'espressione molto semplice che significa essere inesperti, fare le prime esperienze, cimentarsi in qualcosa per la prima volta, in un'attività, in un nuovo lavoro. Vi faccio un esempio pratico, vediamo se riesco a farvi capire. Sicuramente molti di voi si staranno cimentando per la prima volta nell'italiano, nell'apprendimento della lingua italiana e quindi di voi, di queste persone, posso dire che siete alle prime armi con l'italiano. Quindi non siete tanto esperti, state sperimentando, state provando per la prima volta a imparare l'italiano. Mi sembra un'espressione piuttosto semplice, quindi essere alle prime armi, essere inesperti. Spero che questo video vi sia stato utile, spero che con i miei video, prima o poi, non sarete più alle prime armi ma diventerete bravissimi in grammatica e in lingua italiana. Vi mando un bacione, fate tanti esercizi sul sito www.impariamoitaliano.com e noi ci vediamo al prossimo video!